Ciao, sono Michele Di Stefano, sono coreografo con il gruppo MK, è la prima volta che la compagnia viene a Kilowatt, quindi questo è eccitante, in più viene con un pezzo al quale tengo molto, che si chiama Sfera, è una produzione recente del gruppo e ci tengo molto perché è un pezzo che faccio fatica a definire e questo mi piace, ha una qualità senza nome, dei contenuti abbastanza misteriosi, credo che parli di mescolanza, di incrocio, di invenzione costante dello spazio, mi piace definirlo un lavoro eternamente nascente che utilizza la danza ma per la prima volta anche la parola. No, no, questo no, non lo faccio, neanche questo.